Buongiorno a tutti. Lo sappiamo, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi abbiamo vissuto cose che probabilmente non eravamo pronti a gestire. Abbiamo ascoltato le paure dei nostri collaboratori, abbiamo ascoltato le vostre esigenze in situazioni difficili, ci siamo dati da fare, abbiamo cercato di risolvere una questione che era evidentemente più grande di noi. Abbiamo fatto tante cose e poi a un certo punto ci siamo fermati a chiederci se le cose che stavamo facendo non erano veramente quelle giuste. Abbiamo pensato di aver sbagliato, abbiamo cambiato idea, poi abbiamo ricambiato ancora, in preda un pochino al caos di quello che stava succedendo. Alla fine però abbiamo capito una cosa, questo non è il nostro medioevo, non è finito tutto, non è che le strade ormai non funzionano più, le comunicazioni e i trasporti sono fermi, no, ci saranno dei cambiamenti e saranno da costruire questi cambiamenti e non da subire. Quindi bellissima la frase dell'andrà tutto bene, ma secondo noi ancora meglio è faremo in modo che vada tutto bene, perché dipende veramente tantissimo da noi. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti voi.